Si conclude oggi, lunedì 4 ottobre, la 67esima edizione della Festa dei Fiori. Qui in Piazza del Popolo l'accesso era possibile solamente attraverso il Green Pass. Ora però andiamo a sentire alcuni commenti dei 23 espositori che hanno partecipato alla fiera. Un bilancio tutto sommato molto positivo. Sabato c'è stato un po' di inizio per il fatto che la piazza era chiusa. Con il Green Pass abbiamo avuto un po' di difficoltà le prime ore di assestamento. Dopo il pomeriggio è stato un bel afflusso, ieri è stato molto molto positivo, abbiamo lavorato tanto. C'è stato un grande afflusso, ha funzionato tutto molto bene anche con il Green Pass. Sono stati anche molto rispettosi tutti con le mascherine e abbiamo fatto un bel lavoro. Quanto è importante questo evento per l'economia di un espositore? Questo evento è importante perché noi riusciamo a far conoscere le piante di questo periodo, come rinnovare il terrazzo, oltre ai ciclamini soliti che noi conosciamo tutti, le viole, ci sono tante altre piante che si possono piantare in autunno. E quindi in questa occasione noi riusciamo a promuovere questo tipo di lavoro di piante. Quindi rimane molto molto importante questa fiera, sia per l'economia ma anche per il messaggio che noi diamo ai nostri clienti. Il bilancio per noi è positivo, devo dire che nonostante i controlli tra protezione civile o chi altro ha controllato, comunque l'affluenza è stata buona, anche a livello di riscontro del pubblico devo dire che è stata una buona fiera. Il settore bene o male non ha risentito secondo me tantissimo del Covid, di tutte le varie chiusure che ci sono state. Per cui forse anche essendo le persone più a casa si sono rese conto maggiormente del fatto che avere un giardino, avere uno spazio verde, poteva essere un valore aggiunto. Per cui abbiamo visto più attenzione rivolto al verde rispetto a quanto magari ce n'era prima, quando si usciva di casa, si tornava la sera e magari c'era un pochino meno attenzione verso le cose belle che si hanno intorno a tutti i giorni. Nonostante le restrizioni o il green pass o comunque queste nuove regole da seguire, da imparare, comunque la gente comunque è venuta, ha comprato, è serena, comunque sta rispettando le regole e stiamo vivendo questa nuova normalità, si può chiamare così, però noi possiamo solo pensare in positivo, è stata una bella esperienza anche quest'anno e siamo molto contenti, sì. Ormai la gente ci conosce, ormai lo aspetta, aspetta da un anno all'altro le novità, aspetta comunque la gente, ci aspetta, ci riconosce e anche solo per fare due chiacchiere vengono e per noi è sempre importante, non solo per il lavoro, anche proprio per il contatto umano.